Ragazzi, allora, sono entrata, intanto sono in via Ruggero Settivo, sono entrata da Zara, ma ce l'ho entrata qualche giorno fa, quindi niente di nuovo, e poi sono entrata da Coim in casa, dove ci sono cose splendide, bellissime, però un po' fuori prezzo, nel senso prezzi esagerati, e poi io, onestamente, sono sempre le solite cose, quindi, e niente, ora sto andando a due passi, qua c'è il Teatro Massimo e c'è il mio marito che mi aspetta, quindi ci facciamo un giro ora in via Macqueda, che è la continuazione di via Ruggero Settimo, e poi dovremmo andare a mangiare. Guardate che oggi pomeriggio, ragazze, vi carico un video sui prodotti preferiti di questo periodo, perché ne ho parecchi, quindi vi ho fatto un piccolo video, quindi dopo il vlog quotidiano, un video appunto sui preferiti, vetrine di Pandora, come brillano le cose in vetrina, poi invece quando ce le mettiamo non brillano così tanto, onestamente. ragazze, vi faccio vedere il centro perché mi dite sempre che vi piace, che vi faccio questi video così, e quindi, e li faccio, ragazze guardate qua, c'è gente completamente scoperta, scollata, c'è ancora caldo, questi erano turisti, la maggior parte sono turisti e sono tutti in maniche corte. Ragazze, ora chiudo e ci vediamo tra un po'. E noi, come se ne andavamo? E noi, come era in modo da fare, le persone andavano a una macchina, andavano a una volta, e andavano a un po'. Allora, se ne andavamo a un po' più amiciare, e cominciai a tagliataggio e cominciai a girare. Lui si deve parlare. Va bene, quindi sono fatto con il disco, ma come il disco. E noi, come se ne andavamo a fare, le persone andavano a una macchina, andavano a un po' più amiciare, Cominciai ad aggi ad aggio e cominciai a girare. Tuoi si deve parlare. Quindi sono fatto tracone. Fatta diretti un manco.